Siamo pronti e si parte con il coach, guarda il coach, mannaggia, c'è sempre il coach E' l'altro la mano in tasca, e' l'altro Glenn Kimbo Slice Certo che WTD hanno copiato alla grandissimi personaggi, mannaggia Coach è il fratello di cosa? Paris, Sasha, Glenn, e quello non lo so Sasha, no, con l'onciacca Sono io ieri governatore Cioè comunque hanno copiato spunto sicuramente perché Troppo, capi? Troppo, troppo poco casuale Mi dista la bu? Un po' di caricamento c'è Eh, perché forse non è l'ufficiale No, chi ospita la partita ospite pure il server Hai visto? Sì, ma deve essere dedicato Qua era così prima No, ma deve essere dedicato per andare a Belori Se non è dedicato ti va a fili su altri server No, dico, però fa un po' tu e un po' loro, capite? Eh, io non c'ho l'ufficiale Io non c'ho l'ufficiale O non so se l'hanno modificato perché hanno fatto degli aggiornamenti Nico, odio a darvi sempre brutta notizia e gente A meno che Alice non sappia costruire un carro armato Eh, pensa nel gioco Poco mai mi è arrivata questa macchina qua che fa l'una al litro Già, a ruba A ruba, punti Ma ruba, punti Check it out Ma vabbia da portare un bel po' di tar No, renditi E' s'ha fatto? E' un attimo sto Sparare le cose, no? Eh, già iniziamo a sparare ma... Non si buca Non si buca niente ruote ma... Eh, che stai su The Division adesso Eh, boh, però capì? Le fondamenta Le fondamenta L'unica cosa fuori di quel gioco No, no, no Le go No, no Attenzione Hunter Ma che behe Che dico Ma... Ma... Eccolo I mortaggi Ok Eccolo 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 connected Contadino ma mi pare sopra qua c'era roba e raga dove andate ci sta tutto munizione esplosive ma che edoardo lo dica manco morto ma non è manco morto perchè cosa perché qualcuno me lo sa spiegare perché è successo questa cosa cosa li ho chiamati io che sopra c'era roba ho capito ma io già stavo giù e ti giravano pochino e ti giravano ma talvolta non siamo passati da qui e stanno buber che ci inseguono sento da un'ora qua c'è un tank al 100% se non ricordo male bravo bravo ti chiede nel bagno alla vergogna massa vi mette grazie 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 la lo lo i nel lo che stanza vabbè eccolo oh la breccola oh 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 ah volevi fare le cose zuzze eh il malandrico con il bagnetto bello munito cos'è sta roba la droga eh quella di mirko di hotel da psicopatica come se usavano ma che cazzo è stato di hotel così con le freccette questi sono quelli hotel riseri a killer in america e che tu ce vai e morirai le pillole guacca ci sta qua reloading ma apritela sta porta pillole ah io ha passato dalla finestra chi è aha però si droga smoker è è cotto come siamo boomer anche anche charlie ma qua c'è sta tutto vabbè che cazzo mettiti dentro una stanza ah sì cazzo cazzo spegnete le luci sa che sta nella piscina c'è una piscina c'è una piscina qui oh sta qua sta qua ma qui è pura rabbia ma io mi ricordo che si passava la piscina dove state andando attenzio ma ha ha e è però che ha ha chi l' il no 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 mi spacco la testa il tubo bomba eh io c'ho già una bile questa è l'arma più o meno la bomba è buono però ricarica troppo lento però sono arrivati dieci colpi c'è l'altro era davanti non vediamo la tua script ho sparato vediamo che vedevo movimento attenzionava vai vai oh god ok c'è avanti tutta aspetta appos appos bella siamo circondati dalle piamme c'è rifugio entro a casa cosa state ah no è sasha stavo morendo dai entro porca miseria oh il coach è per rianima stè si poi a un certo punto sei incendiato la strada abbiamo dovuto fare il giro per dietro ho dominato nella camera da letto ti 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 Grazie.